Allora, prima di dare la parola al mio pastore, sono ben compreso anche lei, onorevole Fiano, sempre sull'ordine dei lavori. Prego. La ringrazio, Presidente, sull'ordine dei lavori. Signor Presidente, ieri nella città di Firenze è accaduto un fatto di sangue molto grave. Onorevoli colleghi, è sull'ordine dei lavori. Fategli esprimere il tuo pensiero. C'è una proposta sull'ordine dei lavori, signor Presidente. Onorevoli, non vedo... Io chiedo, signor Presidente, intanto che vengano ricordati in aula i nomi di due esseri umani che ieri sono stati uccisi, che si chiamavano Sambo Modou, di 40 anni, e Diop Mordi, 54 anni. Chiedo che il Governo venga a riferire in aula sul gravissimo fatto corso a ieri con l'uccisione di queste due persone. E chiedo a lei, Presidente, che quest'Aula osservi un minuto di silenzio in memoria di queste due persone uccise, non siamo ancora in grado di dire in questo momento, se per la follia o per l'ideologia di una persona, ma uccise ingiustamente, con un versamento di sangue che la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana farebbe bene a ricordare con un minuto di silenzio. La ringrazio. Prego, grazie, onorevole Fiano. Prego il sottosegretario per il rapporto del Parlamento di prendere nota della richiesta dell'onorevole Fiano, che la Presidenza condivide. Prego, onorevole Angelisi. Anche lei sulla questione? Soltanto per ringraziare l'onorevole Fiano e associarmi alla sua richiesta. Grazie. Prego, onorevole Raisi, prego. Prego, per associarmi alla richiesta dell'onorevole Fiano, a nome del gruppo. Onorevoli colleghi, credo che le parole pronunciate dall'onorevole Fiano, cui si sono associati altri colleghi, siano l'espressione dello Stato d'animo sincero di tutti i deputati, senza alcuna distinzione.